Allora, cari, cari, cari amici, eccoci qui per una nuova avventura di pesca, siamo qui con il compagno di merende del fine settimana, ma che è una volpe? Oh, il volpino, il volpino, la volpe, a farci compagnia, eccola la nostra, la famiglia di volpi, la famiglia di volpi, le volpi portano fortuna, portano bene, portano bene, bellissima giornata di mare, Antonio attendo a non farti ammazzare, ecco il terreno scelto per la nostra battuta di pesca, un posto praticamente sfruttatissimo, tutti quanti vengono a pesca qua, ci fanno anche le selettive, quindi territorio iper sputtanato, vediamo come va quest'oggi, però le volpi portano bene, sono un po' come le iene. Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti 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 Bellissima, bellissima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti